Per analizzare il segnale intrallacciato posso selezionare anche come trigger le linee dispari o pari, quindi se vado su odd avrò che il trigger si posiziona sulle righe dispari. Questo video è sponsorizzato da JLCPCB, un'azienda specializzata nella produzione di circuiti stampati, che con tariffe bassissime permette di ricevere PCB di ottima qualità in pochi giorni. Potrete ordinare al costo di soli 2 dollari 10 prototipi con un tempo di produzione di soli 2 giorni. Ciao a tutti e benvenuti in laboratorio. Oggi è il primo giorno in cui ho il braccio libero, perché riesco a fare un po' di riabilitazione, quindi con molta attenzione posso muoverlo. L'introduzione è dedicata agli amici ferrovieri, gli amanti della ferrovia, perché ho ricevuto in dono questo libro, Storia dell'elettrificazione dei locomotori trifasi FS. Il libro mi è stato regalato da Giorgio Morocutti, che saluto e ringrazio, e con il quale probabilmente avremo a che fare nei prossimi mesi, perché ha lavorato 40 anni in Enel e di sicuro avremo spunti interessanti per i prossimi video elettrotecnici. Il video di questa sera è la parte 2 del video 792 che riguardava la televisione analogica. In parte 1, infatti, abbiamo visto come è composto un segnale televisivo. Questa sera lo vedremo veramente con un oscilloscopio, quindi capiremo le modalità per catturare un segnale video, vedere nel dettaglio come è composto. Poi avremo una parte che riguarda i circuiti per la discriminazione e separazione dei segnali di sincronismo. In ultimo, avremo qualche nozione sulla deflessione orizzontale e verticale delle bobine. E in ultimo, se vi ricordate, nel video 790, avevo realizzato un semplice oscillatore a valvole di Abram e Block. Vedremo questa sera come calcolare i parametri per definire bene la frequenza di oscillazione, visto che me l'avete chiesto in tanti nei commenti. E quindi, buona visione! Ora, rapido sguardo a questo stupendo libro. Cominciamo con una copertina blu, stile disegno meccanico di una vecchia locomotiva. Qua abbiamo la dedica di Giorgio, gentilissimo. E questo volantino ci ricorda che a Brescia, nel castello, è presente la locomotiva numero 1 che ha bisogno di restauro. Se non l'avete vista, andatela a visitare, veramente esperienza indimenticabile. Il libro, scritto da Claudio Pedrazzini e Giorgio Morocutti, è fatto molto bene, con uno stile narrativo che ci riporta indietro nel passato dalle origini delle prime locomotive. Quindi, quando ancora la forza motore non era stata scoperta. E contiene molte informazioni utili, disegni. Ha un taglio tecnico facile da comprendere, anche per i meno esperti. Ma la cosa bella è che è proprio narrativo, per cui troverete tutta la storia che ha caratterizzato l'Italia. Le foto sono notevoli, abbiamo dei dettagli proprio degli elementi di trazione. E tutte le descrizioni tecniche correlate. Primo obiettivo di questa sera, visualizzare un segnale televisivo, come avevamo discusso in teoria l'ultima volta, con un oscilloscopio. Quindi, dobbiamo per prima cosa trovare una sorgente video. Inizialmente avevo pensato a crearmi un piccolo generatore di segnale video. Considerando però che il segnale composito, come abbiamo visto, ha una banda molto larga, di quasi 5 MHz, non è un compito poi così facile. Magari ce lo teniamo per un altro video. Allora, come idea, ho selezionato il Raspberry Pi. Questa è una versione molto vecchia, ma sappiamo che le prime versioni uscivano anche con il connettore RCA videocomposito. Quindi, basterà spillare l'uscita. E ora, per vedere se è operativo, colleghiamo un semplice monitor che abbia un ingresso composito e vediamo cosa salta fuori. Sempre in tema vintage, recupero questo schermo da EV, che era un ricevitore televisivo analogico vecchio tipo. Il quale ha anche un ingresso a V esterno, per cui collegheremo il Raspberry direttamente qui. Questi oggetti sono molto comodi, adesso li trovate per niente nei mercatini dell'usato. Per questo tipo di esperimenti sono molto utili. Qua, ad esempio, abbiamo la scansione della banda analogica in banda VHF. Se spingo, il cursore diventa verde e la banda diventa UHF. Alimento il Raspberry con 5V e collego lo spinotto a V qui dentro. Ecco, vedete, questa è l'uscita del Raspberry. Vedete che sta facendo il boot, qua riconosciamo il lampone. Quindi andremo adesso a vedere direttamente i segnali sullo spinotto. Collego la sonda dell'oscilloscopio all'uscita del cavetto RCA. Per fare un lavoro pulito avrei dovuto utilizzare un cavo corto, magari anche un carico da 75 Ohm, ma per le misure che dobbiamo fare con l'oscilloscopio va bene anche questo setup un po' brutale. Vediamo cosa fare a schermo. L'oscilloscopio mostra questo segnale che, come dicevamo, è a larga banda. Quindi, se vado ad aprire il mio segnale, riconosco degli impulsi che cambiano molto velocemente, ma ho difficoltà a triggerarli con un trigger normale di tipo Edge. Fortunatamente questi oscilloscopi digitali forniscono anche il trigger di tipo video che possiamo utilizzare proprio per andare a caratterizzare esattamente il nostro segnale. Nel menu del trigger, quindi, nel tipo di trigger, invece di pulse o edge, va dal selezionare video. A questo punto posso scegliere la polarità del segnale. In questo caso abbiamo una polarità con impulsi di sincronismo rivolti verso il basso. Posso sceglierla come mi pare. E poi posso decidere il tipo di sincronismo. Ad esempio, posso sincronizzare il mio segnale su tutte le linee. E vedete che adesso il segnale risulta essere inchiodato. Posso selezionare il tipo di standard, quindi PAL-SECAM 480p, 576p. Adesso io lascerò PAL-SECAM, qua per il nostro Raspberry. E poi, a seconda del tipo del segnale di sincronismo che vado a prendere, posso vedere i diversi parametri. Ricordiamo che nel segnale video composito abbiamo gli impulsi di sincronismo e il segnale video mescolato. Il segnale video è questo qua che si vede nella parte alta, che rappresenta appunto la luminosità per ogni riga scansionata. Per analizzare nel dettaglio il segnale, invece di all lines, posso decidere line. E a questo punto posso decidere riga per riga come vedere il mio segnale. Ad esempio questa è la riga 67, riga 68, eccetera. Quindi posso decidere di mettermi in una particolare riga e fare il dettaglio. Questa è una delle grandi potenzialità degli oscilloscopi digitali, perché ovviamente contando il numero di impulsi permettono questo trigger avanzato. Quindi vedete che posso decidere la riga che voglio e analizzare nel dettaglio il segnale video, ad esempio. Quindi sulla riga 102, ad esempio, vedo poi questa sequenza di impulsi. Per analizzare il segnale intrallacciato posso selezionare anche come trigger le linee dispari o pari. Quindi se vado su odd avrò che il trigger si posiziona sulle righe dispari, even le pari. Con questo tipo di trigger il segnale è veramente inchiodato e mi permette di analizzare nel dettaglio tutte le cose che abbiamo visto in teoria. In particolare utilizzando la funzione delay, vedete, posso ritardare e centrare anche i piccoli dettagli di questo segnale, posizionandomi poi con il trigger in maniera opportuna. Torniamo ora alla parte teorica del video e cerchiamo di capire come sono fatti i circuiti dei ricevitori televisivi atti a separare la componente video dalla componente di sincronismo. Quindi vedremo un po' il principio con cui è fatto e qualche schema applicativo a valvole. Focalizziamo la nostra attenzione sul televisore ed in particolare su quello che è chiamato il complesso di sintesi che è l'insieme di questi tre blocchi. Nel televisore abbiamo che il segnale captato dall'antenna viene rivelato e inviato dapprima a questo separatore che è un blocco che si occupa di dividere la componente video rispetto alla componente degli impulsi di sincronizzazione che sono presenti nel segnale composito. Infatti l'unico segnale televisivo li contiene entrambi. Questa separazione avviene con un criterio di ampiezza. In base, cioè al livello del segnale che è mescolato, si possono dividere queste due componenti. Dopodiché la parte di sincronizzazione ha un'ulteriore separazione fra impulsi di tipo orizzontale, verticale e di altro tipo come quelli di equalizzazioni e i lunghi. Questa volta la discriminazione utilizza il criterio della durata cioè impulsi piccoli per gli orizzontali un po' più larghi per i verticali. Infine abbiamo il blocco di deviazione e quindi il blocco che si occupa di pilotare le bobine di deflessione orizzontale e verticale per pilotare il pennello elettronico e il tubo catodico con un'ulteriore bobina di messa a fuoco. In tutti questi blocchi sono presenti diversi circuiti tra cui amplificatori, filtri, circuiti speciali di controllo automatico di frequenza e fase, eliminatori di rumore e anche il ripristino della componente continua. Siccome sappiamo che i vari stadi a valvole sono accoppiati in maniera a condensatore e resistenza il valore continuo viene perso e quindi abbiamo bisogno anche di questo circuito che lo ristabilisce. Vediamo come avviene ora la separazione della parte video rispetto alla parte di impulsi di sincronismo in un segnale composito. Abbiamo detto che si utilizza il criterio dell'ampiezza. Questo schema concettuale ci fa vedere un triodo che è collegato in questa maniera. In ingresso abbiamo un condensatore e una resistenza di disaccoppiamento al quale viene applicato il segnale video composito intero e il segnale con i soli impulsi quindi senza la componente video viene prelevato qui all'uscita. Difatti se rappresentiamo la corrente anodica in funzione della tensione di griglia del nostro triodo sappiamo che sotto un certo valore della tensione di griglia abbiamo il triodo in interdizione quindi non c'è passaggio di corrente e invece quando la tensione di griglia diventa meno negativa quindi si avvicina allo zero e anche un pochino di più abbiamo passaggio di corrente anodica all'interno della valvola. Quindi se facciamo in modo che il nostro segnale video composito sia posizionato tramite opportuna polarizzazione di modo che la parte video che è la parte più bassa e più negativa corrisponda alla zona di interdizione e la parte di sincronismo invece rimanga nella parte di conduzione del triodo avremo che il triodo fa passare solo gli impulsi di sincronismo ad esempio in queste zone dove ho il segnale video la valvola non conduce e ho zero qui invece ho gli impulsi di insincronismo che possono essere impulsi di linea impulsi di equalizzazione, quelli piccoli e anche impulsi verticali quindi quelli un po' più larghi tutti questi impulsi vengono trasferiti proprio perché si trovano in una zona di conduzione del nostro triodo quindi all'uscita di questo circuito avremo rimosso completamente la parte video questo è uno schema concettuale che può avere diverse varianti ad esempio se aggiungiamo una resistenza qui in catodo e un condensatore in parallelo avremo un circuito a polarizzazione automatica ossia quando passa corrente poi abbiamo anche una polarizzazione griglia-catodo che ci fa lavorare il tubo in una particolare zona esistono tantissime altre varianti con l'uso di ovviamente altri tubi come un semplice diodo o anche pentodi che spesso sono utilizzati in ambito televisivo ma concettualmente quello che fa questo stadio lavora sull'ampiezza per estrarre la sola parte di impulsi per quanto riguarda invece la separazione di impulsi di sincronismo di tipo orizzontale, verticale o di equalizzazione come abbiamo detto si utilizza il criterio della durata e della forma e all'epoca non è che ci fossero tanti circuiti complessi e il circuito che si adotta è quello che fa uso di componenti come condensatore, resistenze e anche induttanze in particolare ci interessa la costante di tempo RC quindi il prodotto proprio dei valori di resistenza e capacità sia nel caso di separazione impulsi orizzontali che impulsi verticali la costante di tempo RC di un circuito lo abbiamo affrontata nel video 240 e sappiamo che esprime un tempo solitamente misurato in microsecondi per queste applicazioni che indica la carica del condensatore e la scarica del condensatore quindi una costante di tempo RC è un valore al quale il condensatore si è caricato al 63% della tensione totale e questo lo si può calcolare facilmente facendo i calcoli matematici come è fatto nel video 240 sappiamo anche che dopo un tempo pari a 5 volte RC la carica e la scarica del condensatore possiamo ritenerle complete cioè al 99% proprio dimensionando il valore di questa costante di tempo siamo in grado di separare gli impulsi orizzontali dai verticali nel caso di impulsi orizzontali che sono molto stretti si utilizzerà un circuito cosiddetto differenziante questo è il termine antico che si utilizzava all'epoca ossia con condensatore e resistenza disposti in questa maniera e poi c'è anche una variante meno usata con resistenza e bobina ad ogni modo una forma d'onda quadra che entra dentro questo circuito viene trasformata appunto nella derivata e quindi l'uscita avrà un guizzo positivo in corrispondenza del fronte di salita e un guizzo negativo in corrispondenza del fronte di discesa questi sono guizzi che verranno utilizzati nei circuiti che vedremo dopo con le valvole per estrarre gli impulsi orizzontali per l'estrazione degli impulsi verticali che hanno una durata molto superiore a quelli orizzontali si utilizza il circuito integrante ossia la resistenza è posta qui il condensatore qui oppure nella versione con bobina l'induttanza e resistenza e riconosciamo una rete passa basso con la funzione integrante quindi se entra una forma d'onda quadra vediamo che l'uscita ha la carica del condensatore e la scarica con questa forma d'onda un pochino più grande quindi una grande costante di tempo ci permetterà di estrarre solo gli impulsi più larghi questi piccoli siccome la costante di tempo è superiore alla durata dell'impulso praticamente non verranno neanche visti ci sarà forse una piccola carica e scarica ma si riesce così bene a discriminare l'impulso verticale largo rispetto all'impulso orizzontale stretto esattamente l'opposto di quello che abbiamo visto prima prendo a prestito questa figura dalle dispense corso di televisione per vedere l'effetto di un circuito differenziatore al fine di estrarre gli impulsi orizzontali quindi quelli che pilotano il sistema di deflessione orizzontale quindi ci interessano questi impulsi stretti orizzontali e gli equalizzatori il differenziatore ad ogni fronte di salita dell'impulso produce un guizzo positivo ad ogni fronte di discesa un guizzo negativo siccome questi guizzi hanno una distanza temporale che è figlia della larghezza anche di questi impulsi solo quelli orizzontali ed equalizzatori produrranno dei guizzi tali da eccitare il generatore di deflessione orizzontale quindi quello che muove il pennello nelle asse X gli impulsi verticali non lo potranno fare perché creano delle distanze temporali tali da non riuscire ad eccitare appunto il generatore di deflessione orizzontale per la deflessione vengono utilizzati gli impulsi solo di una polarità quindi di solito sono quelli positivi il caso opposto è il circuito integrante quello che serve per estrarre gli impulsi verticali costituito da una resistenza serie da 50 Km e una capacità di 2 microfarad in questo esempio con questi valori abbiamo una costante di tempo molto grande di 100 microsecondi che ci servirà appunto per estrarre solo gli impulsi verticali di fatti gli impulsi orizzontali che hanno durata di soli 5.75 microsecondi e gli equalizzatori ancora meno 3 microsecondi verranno filtrati da questa grande costante di tempo difatti vedete che il segnale rimane basso viceversa gli impulsi verticali che hanno una durata di 29 microsecondi ma soprattutto sono distanziati da poco e globalmente hanno una costante di tempo di 192 microsecondi con questa costante di tempo il segnale riuscirà a salire a un livello tale da produrre questa forma quasi triangolare e proprio questa forma sarà quella adatta a pilotare il generatore di deflessione verticale vediamo ora un circuito classico utilizzato per la separazione del segnale video e la generazione dei segnali di pilotaggio di deflessione orizzontale e verticale il segnale videocomposito perviene in ingresso a un doppio triodo di tipo 6n7 nel quale la prima sezione ha il compito di eliminare il segnale video difatti abbiamo un'autopolarizzazione di griglia tale per cui solo gli impulsi di sincronismo quelli relativi alla parte alta del segnale sono in grado di mandare in conduzione questo triodo quindi all'uscita sulla sua placca ci troveremo un segnale di polarità invertita contenente solo gli impulsi di sincronismo sia verticali che orizzontali difatti quando è presente il segnale video quindi livelli bassi il triodo è interdetto e questo potenziale si porta all'alimentazione di 34 volt viceversa quando sono presenti gli impulsi il triodo conduce quindi scorre corrente su questo ramo e questo nodo quindi subisce la caduta di tensione e si abbassa la seconda sezione del triodo è utilizzata per amplificare il segnale difatti da qui viene prelevato riportato nella griglia del secondo triodo e questa volta la placca è alimentata con una tensione di 315 volt e quindi abbiamo in uscita un segnale ancora ruotato di 180 gradi e quindi sarà in fase col segnale di ingresso ma ripulito la polarità positiva di questo segnale ci serve per pilotare questo tetrodo questo 6y6g che ha il compito di generare un segnale schietto quindi privo di qualsiasi tipo di disturbo e difatti viene alimentato con 6 e 9 volt e solo quando abbiamo gli impulsi sincronizzanti quindi il segnale alto produrremo in uscita questo segnale in opposizione di fase con questa polarizzazione quindi si sfrutta la saturazione della corrente anodica per avere un effetto limitatore e separatore e quindi un segnale bello pulito l'ultimo stadio composto sempre da un doppio triodo 6n7 è quello che ci permette di generare i due segnali pronti per pilotare i deflettori orizzontale e verticale in particolare su questo primo triodo dopo questa costante rc 820 pico 01 mega si ha in uscita di placca un segnale che viene iniettato su questo differenziatore se vi ricordate abbiamo il condensatore e la resistenza con una piccolissima costante di tempo circa 70 nanosecondi ci permette di ottenere qui su questo punto i guizzi positivi e negativi che verranno portati al generatore di deflessione orizzontale quindi da questa via si estrae il sincronismo orizzontale per ottenere il segnale di deflessione questo segnale viene anche portato sull'altra griglia del secondo triodo la quale ha in placca tre celle di integrazione ognuna delle quali ha 8200 ohm di resistenza e 5000 pico farad quindi 5 nano farad queste tre celle rc insieme formano una costante di tempo di 200 microsecondi tale da ottenere in uscita il famoso triangolo un po' esteso per poter pilotare la deflessione verticale ovviamente esistono moltissimi tipi di circuiti questo in particolare potrebbe essere un circuito che magari realizziamo in una puntata 3 pratica alimentando lo stadio con un segnale video andremo a vedere effettivamente se riusciamo a separare bene i segnali di sincronismo verticale e orizzontale aprendo una tv a tubo catodico troviamo sempre il gioco di deflessione questo deve essere pilotato con segnali opportuni a dente di sega e quindi adesso introduciamo il concetto degli oscillatori di rilassamento che sono un pezzo fondamentale per la creazione di questi segnali per avere una corretta riproduzione dell'immagine sul televisore il pilotaggio delle deflessioni deve essere molto preciso quindi sappiamo che nel fronte ascendente del dente di sega viene mosso il pennello supponiamo ad esempio di dover muovere il pennello ottico nell'asse orizzontale quindi questa tensione che sale linearmente sarà quella responsabile di deflettere il raggio da sinistra a destra poi abbiamo un fronte discendente che è il ritorno del nostro pennello ottico e questo deve avvenire in un tempo molto breve quindi il segnale che dobbiamo generare tipicamente avrà un tempo T1 che sarà molto più grande del tempo T2 per avere delle frequenze molto precise lo schema che si utilizza di solito è composto da un oscillatore e un tubo a scarica tubo a scarica perché diamo per scontato che c'è un condensatore che si carica e che viene scaricato sempre da una valvola questo però ha istanti di tempo ben precisi stabiliti dall'oscillatore questo oscillatore è detto a rilassamento e ha una sua frequenza naturale di oscillazione F0 che normalmente è più piccola della frequenza propria di sincronismo alla quale vogliamo generare i nostri denti di sega questo perché la frequenza di oscillazione naturale è più lenta e viene fra virgolette retriggerata dal segnale di sincronismo ricevuto in antenna e condizionato dai circuiti che abbiamo visto prima gli oscillatori di rilassamento tipicamente sono di due tipologie a multivibratore a oscillatore bloccato quello che vediamo subito adesso è a multivibratore perché in un video passato avevamo visto lo schema di Abraham e Block riprenderemo proprio quello schema per fare i conti e stabilire l'esatta frequenza che ci serve in funzione dei parametri che andremo a stabilire in ultimo riprendiamo l'oscillatore multivibratore ad accoppiamento anodico di Abraham e Block che abbiamo visto nel video 780 approfondiamo un po' il funzionamento del circuito e stabiliamo i valori per calcolare il periodo di oscillazione è un amplificatore a due stadi di tipo RC in cui l'uscita del primo stadio viene portata in ingresso al secondo e l'uscita del secondo viene riportata in ingresso al primo in modo che l'uscita rinforzi il segnale in ingresso quindi si ha una retroazione positiva e si oscilla fra due stadi uno stadio in cui un tubo è conduttivo al massimo e l'altro è completamente interdetto poi si ha una commutazione e la situazione si rovescia ho indicato in rosso le correnti e le tensioni che ci interessano IA1 la corrente dianodica del tubo 1 VC2 IC2 corrente e tensione del condensatore C2 VG1 la tensione di griglia del tubo 1 e VA1 la tensione dianodica del tubo 1 stesso per il tubo 2 con indici 2 in rosso ho riportato in forma qualitativa le forme d'onda che sono presenti nel circuito VC1 è la tensione ai capi del condensatore C1 il tempo T0 è il tempo in cui entra in conduzione T1 per una condizione casuale come sappiamo nonostante il circuito possa essere fatto esattamente con gli stessi identici valori esisteranno sicuramente delle piccole differenze che faranno cominciare la conduzione di un tubo rispetto all'altro supponiamo che sia T1 nell'istante T uguale 0 quindi supponiamo che entra in conduzione T1 C1 è scarico e si comincia a caricare attraverso questa rete quindi possiamo supporre che la resistenza di carica è RA2 quindi la carica di C1 da 0 parte in forma esponenziale in questa maniera e la corrente nel condensatore siccome siamo proprio all'inizio ha un guizzo positivo perché all'inizio il condensatore è come se fosse un cortocircuito e poi la corrente cala sempre di forma esponenziale durante il processo di carica la tensione di griglia VG1 del primo tubo ha un andamento di guizzo positivo visto che abbiamo detto che questo è praticamente un cortocircuito e poi cala lentamente la corrente di anodica di IA1 quindi tubo 1 ha un guizzo positivo all'accensione e poi si stabilizza su un certo valore questa condizione permane durante il primo periodo durante questo periodo il tubo 2 invece ha questa sorte C2 che era carico si scarica con legge esponenziale IC2 quindi che è la sua corrente è una corrente di scarica che istantaneamente va a 0 e poi è a questo andamento la tensione VA2 quindi questa al nodo del tubo 2 si carica di forma quasi esponenziale abbiamo detto e infine la corrente IA2 quella del tubo che stava conducendo poco prima dell'istante T0 crolla a 0 e rimane sempre a 0 durante quindi il processo di carica di C1 la tensione di griglia del tubo 1 arriverà a un punto in cui si arriverà all'interdizione per cui bruscamente il ciclo si inverte e si entra nella seconda fase giunti a questo istante temporale la tensione di griglia del tubo T1 è arrivata a un livello tale da andare in interdizione quindi il tubo si spegne e invece il tubo T2 si accende violentemente di fatti la corrente IA2 quella del tubo 2 ha un guizzo positivo in questa condizione la tensione di anodica VA2 crolla bruscamente perché c'è passaggio di corrente anodica e quindi c'è la caduta su questa resistenza e il condensatore C1 questo che era arrivato alla sua massima carica comincia questa volta a scaricarsi con legge esponenziale questo ciclo va avanti fin tanto che il tubo T2 non va in interdizione e poi si ritorna nel ciclo che abbiamo appena visto il periodo di oscillazione è la somma dei due periodi T1 e T2 che abbiamo visto e sono affidate a delle cariche scariche che avvengono tramite le resistenze e le capacità che abbiamo visto quindi ha un contributo RG1C1 logaritmo di VAT meno VA2 dove VA2 è la tensione di anodo del tubo 2 quando è conduttivo diviso meno VGO01 questa è la tensione di griglia di interdizione del tubo 1 più un contributo che è duale RG2C2 logaritmo naturale di VAT meno VA1 diviso meno VGO2 se facciamo in modo che il circuito sia simmetrico e quindi VA1 uguale VA2 uguale a VA VGO1 uguale VGO2 uguale a VGO RG1 uguale a RG2 uguale a RG C1C2 uguale a C la formula del calcolo del periodo del nostro oscillatore è uguale a 2RG per C logaritmo di VAT meno VA diviso meno VGO andando a sostituire i nostri valori qui dentro otteniamo il periodo di oscillazione la frequenza ovviamente è l'inverso sostituendo nella formula i componenti che abbiamo usato per l'oscillatore 100 Km per la resistenza di griglia su tutte e due i condensatori erano da 1nF la tensione VAT se vi ricordate era 450V nell'ultimo test la tensione dianodica registrata era di 200V la tensione di griglia di interdizione secondo le curve del doppio triodo ECC81 ci posizioniamo su questa curva vedete abbiamo 200V 20mA di corrente dianodica e la tensione VG0 è meno 5 quindi circa qui andando a sostituire i numeri abbiamo una frequenza di 1278Hz in realtà poi io avevo misurato di più però bisogna verificare poi con la retta di carico che ho scelto il punto di polarizzazione giusta bene e con questo termina questo video dedicato agli svalvolati on the road io vi ringrazio per averlo visto e vi faccio i complimenti se siete arrivati fino a qui perché era un po' pesantuccio come sempre se vi è piaciuto o vi è stato utile un bel pollice in su io vi saluto ciao e alla prossima ciao 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 ciao